Lunedì sera la conferma della condanna a 5 anni e 3 mesi per abusi su due minori. Ieri l'arresto di Padre Iesus, ex parroco di San Nicola Manfredi, in provincia di Benevento. L'hanno eseguito sulla scorta di un ordine di carcerazione della Procura Generale presso la Corte di Appello, gli agenti della squadra mobile di Benevento, che lo hanno prelevato dalla Domus Sacerdotalis e trasferito presso il carcere di Contrada Capodimonte. E' stata scritta la parola fine, dunque, ad una vicenda al centro di un'indagine condotta dalla stessa squadra mobile relativa a due distinti episodi risalenti a settembre 2008 e all'aprile 2009, quando il prede avrebbe costretto un tredicenne ed un quattordicenne, entrambi residenti nel Sannio, a subire atti sessuali. Un caso sul quale è intervenuto anche l'arcivesco metropolita di Benevento Felicia Crocca, che ha espresso piena solidarietà alle vittime. Parole importanti che, in attesa del risarcimento dei danni dovuti dall'imputato, potrebbero essere accompagnate nel frattempo da un gesto che avrebbe una valenza altrettanto significativa, ovvero l'impegno della curia a rimborsare i costi economici di cui le vittime hanno dovuti farsi calico per ottenere giustizia.